C'è l'ok della Corte dei Conti alla parifica del bilancio regionale, udienza oggi alla Corte dei Conti per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2021. Ad illossare la valutazione di parifica il presidente regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti, Stefano Siragusa. Il bilancio regionale è stato presentato all'organismo di controllo dall'assessore regionale al bilancio Guido Liris, eletto senatore dopo il voto del 25. Nel 2021, come si ricorderà, la Corte dei Conti si è rispressa con parere favorevole ma con riserva di adeguamento sulla chiusura del bilancio 2022. La parifica si inserisce nell'attività di programmazione bilancio svolta dall'amministrazione regionale che si conclude con la definitiva approvazione del bilancio rendicontato ed è rivolta alla predisposizione del futuro bilancio relativo al periodo successivo. Liris, alla fine, andando a braccio prima della sentenza, ha ricordato che quando sono entrati in Regione, l'Abruzzo era considerato una Regione canaglia con 5 rendiconti non approvati nei tempi. Oggi, invece, per lui, la Regione è virtuosa. Abbiamo sanato tutta questa posizione, 5 rendiconti approvati dal 2016 al 2020 delle passate amministrazioni, rendiconto 2021 approvato in tempo utile, piano di ammortamento nonostante la Corte Costituzionale approvato in commissione, giunta, consiglio. Abbiamo tenuto a posto i conti pubblici, conti in pareggio. Oggi abbiamo per la prima volta la procura della Corte dei Conti che chiede addirittura la parifica. Significa che i conti sono in ordine, significa che l'Abruzzo è una Regione virtuosa, significa che gli abruzzesi sanno che c'è un ente che oggi è credibile in Italia con le istituzioni bancarie, con gli organi di vigilanza, con le strutture di polizia, con la Corte dei Conti e siamo a una situazione realmente di gioia nonostante le difficoltà. Covid che ha portato grandissime difficoltà per l'ente, oggi il caro di energia conseguente anche a un conflitto bellico che stiamo gestendo al meglio. Noi oggi con queste casse, con questi numeri siamo in grado di gestire le difficoltà e soprattutto mettere in condizioni i cittadini abruzzesi, soprattutto quelli delle future generazioni, di essere ottimisti, proprio perché sappiamo oggi che c'è un ente che sta in ottima salute per quanto riguarda i conti pubblici e che viene giudicato tale anche da chi ci controlla. Una grande soddisfazione.